Per lei chi è un terrorista? Colui che uccide per politica, accettando di giustificare fino in fondo i mezzi per un fine. La storia dice che si uccida anche per ideali. Il soggetto che ha la ricerca di voler cambiare qualcosa, indubbiamente, nella società. Il problema sono le scelte e i metodi che sono sbagliati. Non è che noi ci rifacciamo in particolar modo alle brigate russi, però questa cosa qui ci colpiva abbastanza. Io vorrei azzardare una distinzione iniziale tra terrorista e diversore. Noi non abbiamo mai fatto parte del mondo del terrorismo. Ne riteniamo, come le dicevo prima, che l'azione armata dei NAR sia per esempio un'azione di terrorismo. Sotto un'angolazione diversa possiamo anche definirlo un esaltato, un fanatico. Questo programma è dedicato a quelli che comunemente vengono definiti gli anni di piombo, alle paure, allo sgomento e al dolore che hanno segnato quei giorni. Tutto un'angolazione diversa, un'angolazione diversa lunga, un'angolazione diversa. E' anche un'angolazione diversa, un'angolazione diversa.